Dall'asfalto spunta la storia, importante ritrovamento ad Aguino dove, durante i lavori per la fibra ottica da parte della società Arts, è stata rinvenuta una tomba romana. La scoperta è stata fatta nella centralissima piazza San Tommaso d'Aguino all'angolo con via Giovenale. Si tratta di una sepoltura di epoca romana con struttura cappuccina e rimane parte di questa struttura della copertura che ha una forma a sezione triangolare, quindi una sorta di tetto e di questa sepoltura rimane sostanzialmente poco della copertura però ancora i resti dello scheletro del defunto. Genericamente possiamo dire di epoca romana è ancora in fase di studio quindi circa 2000 anni fa. Un ritrovamento che ha tirato l'attenzione dei tanti presenti. In questi casi è molto importante l'archeologia preventiva che permette sia di portare avanti i lavori sia di conservare quanto scoperto. Il prossimo passo sarà la messa in sicurezza e la successiva estrazione dal sottosuolo del reperto. Durante i lavori della fibra di Open Fiber l'assistenza archeologica è costante e quindi nel momento in cui emergono reperti antichi, reperti archeologici, si effettua immediatamente lo scavo. È importantissima la nostra presenza in modo tale che non vada distrutto ciò che esiste da 2000 anni, però riusciamo comunque a fare entrambe le cose, a far proseguire i lavori. È giusto che sia così però ad effettuare anche lo scavo archeologico che è importante per conoscere la nostra storia.